ciao a tutti ragazzi continuiamo benvenuti in questo nuovo video reaction allora oggi sono a fare reaction a Spongebob dal 2001 al 2020 vediamo come sono cambiati i giochi di questa spugna protagonista degli abissi ok questo qui è uno dei primi dal 2001 al 2010 sapevo che c'erano i giochi io ne ho giocato uno sì ma era noiosissimo quello che ho giocato io per Nintendo DS credo 3DS non ricordo ma era super noioso non è non come quel c'è carino come questo insomma mi chiuso a fare catturale farfalle retina in mano ora no ha perso ha perso che sono quelli qui è già si vede più avanti vedo che a fare i club i patti vedo la la casa di bichini botte dove lavora lui ecco mi ha raccolto un c'è notte ne ha sì aveva 3 e 4 su 220 faccio anche il tempo di nato 2002 acqua anche 2001 mi ha raccogliere la corria delle monete mi ha raccogliere la corria delle monete mi ha raccogliere la corria delle monete carino questo 2003 bello questo carino dopo faccio del mio sempre che ci sia anche qua ma dovrebbe esserci la gara perché di essere quindi dovrebbe esserci 2004 o che succede ok qua abbiamo incontrato il suo micro patti nottate ok seguiamo non lo vedeva la fine ma adesso sempre di me che ho già e quindi che deve fare combattere si combattere squidi perché è un nemico di sponzi volgo ma che ha fatto simpatico scrivi un altro ragazzo che qua cambiamo ancora il 2005 0 si sa che deve fare i livelli che faccia di sponzi c'è l'inizio come l'inizio della storia pensava fosse una fetta di formaggio un formaggio poi ho capito che è una spugna siete pronti ragazzi sì signor capitano 2006 sì signor capitano questo qua è un gioco di macchine dai che figlio che sicuro conoscevo bello questo perché gioco era questo 2007 2007 con i fantasmi wow anche questo bello che deve fare qua 95 minuti 2007 dov'è questo che raccoli e patrick qua cambiamo ancora 2008 ciao sono anche chi ha detto erano anche belli all'unico tutto che c'era la presa io dai non lo so 2008 anche 2008 ok è caduto ok c'è arrivato perfetto stacca la forza che c'era personaggi noi 2009 questo che particolare questo qua è diverso disponibili apri di affettare il comodoro perché per preparare tra di parti che c'è anche 2009 c'è anche 2009 c'è anche 2009 spazio 2010 così che ancora di macchin giocato quella di macchine no più che la chiesa oddio cos'è 2011 questo qua è questo no non ci credo non ci credo non lo so in real live una pubblicità una pubblicità no a questi ragazzi è particolarissimo cerca di fare 2013 ok ragazzi abbiamo quasi finito ma questo video sei da mia e finici oh mamma particolare questo avete piccolo per nintendo switch bello carino questo che non sapevo c'è sapevo che c'è un gioco per switch ma non sapevo che era c'era così carino bello mi piace molto colorato beh ottima grafica ragazzi che ci possiamo fermare questo video piaciuto spollicciate se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video scusate ma ci vediamoci ciao ragazzi